Allora amici, vi devo dare una notiziona iniziano di nuovo i Cinema Days dall'11 al 14 aprile tutti al cinema, mi raccomando perché vedrete i film più belli film italiani, film di tutti i tipi grandissimi film al cinema a soli 3 euro e poi se invece vi piace andare a vedere i film in 3D a 5 euro, pensate approfittate, ci sono dei film bellissimi da vedere non perdete questa occasione io vado, venite anche voi, no? ciao! next